120 visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma e 120 ecografie per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei. A realizzarle è la Fondazione Ant, sull'ambulatorio mobile che dal 10 ottobre per 20 giornate stazionerà in Piazza del Duomo a Pistoia. Abbiamo 10 giornate per il melanoma e 10 giornate per la prevenzione contro la tiroide. Perché contenti? Contenti perché con il Covid la parte della prevenzione, che di fatto è la battaglia più importante per le malattie oncologiche, cioè prenderle sostanzialmente in tempo, è fondamentale. Questa si è persa perché naturalmente tutte le strutture sanitarie non sono impegnate, altrimenti nella lotta contro il Covid. Sicuramente c'è stata una ripresa importante per quanto riguarda tutto il percorso della prevenzione e della diagnosi precoce. Anche le mammografie che avevano subito un rallentamento per la diagnostica precoce del tumore della mammella sta raggiungendo ormai la quasi normalità, vale per la prevenzione oncologica per il tumore al collo dell'utero, per il PAP test. Ant nasce su quella che è la prevenzione da un punto di vista innanzitutto alimentare e poi bisogna fare attenzione specialmente per il melanoma e i nostri comportamenti nei confronti dell'ambiente esterno. Naturalmente qui noi siamo in Italia, siamo il paese del sole, però a volte, come poi anche i medici spiegano in tutte quelle che sono le loro visite, bisogna fare attenzione perché il sole ha degli effetti anche che possono diventare pericolosi. A finanziare il progetto è la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Mi piace ricordare semplicemente due dati. Durante la pandemia, durante il periodo dell'emergenza abbiamo finanziato gli ospedali per oltre un milione e mezzo e per il periodo post pandemia abbiamo messo in azione delle attività di ricerca insieme agli ospedali e all'università per valutare quelle che sono le conseguenze della pandemia.